Buona giornata, prima edizione del TV Giornale di questo martedì 25 ottobre. Tra le notizie di cui ci occuperemo parleremo della vaccinazione anti-influenzale che ha preso il via proprio ieri. Parleremo anche di Comacchio perché il Comune ha fatto un bilancio dell'ultima stagione turistica e poi i lavori, nuovi lavori in corso a Ferrara, in particolare nuova rotatoria tra via Piangipane e Corsi Zonzo e nuovo semaforo in via Bologna. Poi altre notizie legate all'Università e alla SPAL ma cominciamo subito parlando di politica nazionale perché la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato questa mattina alla Camera per le dichiarazioni programmatiche del Governo. Tra i tanti pesi che oggi sento gravare sulle mie spalle c'è quello di essere la prima donna a capo del Governo di questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto sento la responsabilità che ho nei confronti di quelle donne che hanno attraversato difficoltà per affermare il loro talento, detto la Premier. La Meloni ha ricordato quelle donne che hanno costruito quella scala che oggi permette di rompere il tetto di cristallo. E ancora ha aggiunto dicendo che l'Italia è a pieno titolo parte dell'Occidente del suo sistema di alleanze, è stato fondatore dell'Unione Europea, dell'Alleanza Atlantica, parte del G7 e culla insieme alla Grecia della civiltà occidentale e dei suoi valori. L'obiettivo del Governo dunque non è frenare o sabotare l'integrazione europea ma contribuire a indirizzarla verso una maggiore efficacia in risposta alla crisi. Adesso invece passiamo alla notizia legata alla vaccinazione. A partita ieri in tutta la regione Emilia Romagna parliamo appunto della vaccinazione contro l'influenza stagionale e l'Avis provinciale di Ferrara grazie alla collaborazione con l'azienda USL offre la possibilità di vaccinarsi presso i principali centri di raccolta sangue come la sede di Corso Giovecca. Vediamo. E' partita in queste ore la campagna regionale di vaccinazione anti-influenzale con oltre 1.150.000 dosi di vaccino da somministrare in qualsiasi momento della stagione anche oltre il 31 dicembre 2022. A disposizione dell'Avis Ferrara circa 1.500 vaccini anti-influenzali riservati ai donatori di sangue della provincia estense. La campagna anti-influenzale confermo parte in questi giorni, anzi stamattina proprio il 24 ottobre. E' importante che i donatori, chi vuole fare il vaccino, può farlo presso le nostre sedi e serve a coprire dal picco dell'influenza, a proteggere dal picco dell'influenza che tutti gli anni si presenta in genere nel mese di gennaio e febbraio. E' una protezione ovviamente per le persone, in quanto donatori aiuta a prevenire i cali delle donazioni, preservando appunto dall'influenza. Si può fare in tutte le sedi dell'Avis nel mese di novembre, al pomeriggio, adesso prepareremo un calendario con tutte le sedi, prenotandosi da Argenta, Voghiera, Bondeno, Cento, tutte le sedi dell'Avis di Ferrara, apriranno al pomeriggio secondo un calendario che divulgheremo. A Ferrara è possibile farlo tutte le mattine, tra le mezzogiorno meno un quarto, mezzogiorno e mezza, e lunedì al pomeriggio tra le due e mezza alle quattro, a lunedì e al giovedì. Il consiglio rispetto al vaccino del Covid, alla quarta dose del Covid, è attualmente la linea guida di farlo contestualmente, quindi noi non facendo il vaccino anti-Covid, chi vuole fare tutti e due i vaccini, cioè quarta dose del Covid e vaccino anti-influenzale, deve rivolgersi all'Istituto di Igiene, all'azienda sanitaria. Nel 2012 il numero delle donazioni è rimasto stabile rispetto all'anno precedente, nonostante si siano registrati due fattori negativi, la pandemia da Covid che ha frenato le donazioni, ma soprattutto la mancanza di infermieri. Un problema che abbiamo ormai da circa due anni, da quando è iniziata la pandemia, molti infermieri sono stati chiamati negli ospedali, nelle aziende sanitarie e sono ormai due anni che fatichiamo a trovare nuovi infermieri e quindi siamo alla ricerca di personale infermieristico che collabori con la nostra associazione. Non riusciamo a trovare personale infermieristico in quanto tutte le disponibilità sono state assorbite dall'esigenza dell'azienda sanitaria e dell'azienda ospedaliera di Ferrara. Anche se abbiamo una convenzione che permette ai dipendenti dell'azienda ospedaliere e anche dell'azienda USR di Ferrara di venire fuori turno naturalmente a lavorare per Avis, per la raccolta del sangue, non siamo riusciti a completare gli organici che ci servono tutte le settimane per poter fare tutte le uscite che abbiamo in provincia. Quindi l'appello che facciamo è quello che se ci sono infermieri che hanno voglia di lavorare e disponibilità possono rivolgersi tranquillamente ad Avis per poter iniziare un'attività che ritengo molto positiva. Intanto proseguono anche le vaccinazioni anti-Covid, più o meno stabili i casi nelle ultime 24 ore ma cresce la pressione ospedaliera. Vediamo. Sono 210 nuovi positivi nel Ferrarese dove si registrano 193 nuovi guariti, due purtroppo le persone positive decedute, due donne di Ferrara e Comacchio di 61 e 89 anni. La pressione ospedaliera registra 38 ricoveri a Cona, 28 al Delta e 19 a 100. L'aggiornamento in Emilia-Romagna registra più di 1700 nuovi casi e ben 3710 nuovi guariti, ancora in calo quindi casi attivi a livello regionale, stabili i ricoveri nelle terapie intensive emiliano-romagnole, in aumento nelle parti ordinari Covid, 5 ed eccessi in regione. Cambiamo radicalmente argomento, adesso parliamo di indagini dei carabinieri della forestale sulla chiazza oleosa nel canale Burana nei pressi della ciclabile. La causa dello sversamento nei pressi del quale sono state individuate delle carpe che galleggiavano morte è stato segnalato dagli ambientalisti ferraresi e potrebbe ricondurre a Vigarano-Pieve. Vediamo. Acqua oleosa e nera che usciva da un tubo di cemento che riversava sostanze nel canale Burana. È lo scenario che si presentava sino al 20 ottobre scorso a chi passeggiava nei pressi della pista ciclabile a Ferrara sino quando uno di loro, il presidente del gruppo difesa ambientale estense Francesco Bregola, accortosi della scia patinata e oleosa, ha denunciato la vicenda ai carabinieri della forestale di Bondeno. Acqua nera, ok, sicuramente non depurata, che ha inquinato tutto il canale Burana. Qua esce l'acqua nera e il canale è tutto fatto a chiazze. Acqua ferma, statica praticamente. I militari partiti dalla segnalazione sono intervenuti per chiudere lo scarico. Insieme a loro sul posto anche i tecnici di ARPA-E e le guardie ittiche. Una di loro, Marco Falciano, a proprie spese, ha inviato i campioni per le analisi dell'acqua e ora si attendono gli esiti. Ecco, comunque quello è il punto dove esce l'acqua nera. Proprio nera, si vede un alone nero tutto intorno a dove esce l'acqua. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dello sversamento ci sarebbe la rottura di un tubo di scarico proveniente da Vigarano-Pieve, una patina oleosa che avrebbe quindi viaggiato nel Burana fino a Cassane-Porotto. Qua l'acqua un po' scorre e lì è tutta una patina oleosa di oli e di grassi. E adesso parliamo di temperature ancora alte in tutta Italia, anche nel nostro territorio, ma ovviamente è già tempo di bilanci per quella che è stata l'estate 2022. Comacchio ne ha fatto uno in queste ultime ore. Sentiamo dunque quello che è emerso. Presenze in aumento la scorsa estate a Comacchio e ai Libi. Aumento del 3,9% delle presenze complessive italiani e stranieri rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia che, come ben sappiamo, ha notevolmente inciso sui flussi turistici in Italia e nel mondo. Un traguardo reso possibile grazie alla crescita degli italiani che hanno scelto di trascorrere sulle spiagge del litorale le proprie vacanze. In questo caso la percentuale si attesta a un più 11,8% rispetto al dato del 2019, quindi più italiani e ai Lidi di Comacchio. E questo ha accompagnato anche una maggior presenza di stranieri rispetto al periodo pre-Covid. Tra gennaio e agosto 2022 il Comune sottolinea la crescita sostenuta delle presenze di austriaci, tedeschi, olandesi e danesi, rispettivamente per un più 13%, più 7,5%, più 4% e più 5%. Comacchio sta ritornando a essere la meta di vacanza per quel bacino di turisti stranieri che nel passato rappresentava il suo mercato di punta, dicono dal Comune, e quanto emerso dal tavolo del turismo dedicato al bilancio della stagione estiva e alle strategie promozionali per il 2023. Stagione allungata poi a Comacchio, che tra gli eventi prossimi vivrà Halloween 2022, dal 29 al 31 ottobre la cittadina lagunare vivrà atmosfere particolari, destagionalizzare insomma questo l'obiettivo, e l'amministrazione ha chiesto poi maggiore attenzione da parte di ANAS per l'apertura di cantieri in superstrada nel periodo estivo, che incidono negativamente sul turismo Mordi e Fuggi, è stato detto, che rappresenta per alcune imprese, come ad esempio gli stabilimenti balneari, l'attività principale e riferimento è ovviamente alla scorsa estate, quando i cantieri dell'ANAS in superstrada vennero bloccati durante il cuore della stagione estiva. Torniamo in città dove ci sono due nuovi cantieri da ieri, vediamo dove nel servizio. Al via il rifacimento della rotatoria tra via Piangipane e Corso Isonzo sono iniziati lunedì lavori a cura del Comune di Ferrara nell'ambito del bando periferie per il rifacimento della rotatoria tra via Piangipane e Corso Isonzo. Il progetto prevede il ridimensionamento della rotatoria per consentire la costruzione di un nuovo anello ciclabile attorno ad essa che collegherà le ciclabili di Corso Isonzo con quella nuova che da via d'Arsena arriverà la rotatoria passando all'interno del bauletto verde centrale. Gli interventi non dovrebbero comportare modifiche alla viabilità. Al via anche la realizzazione di un nuovo impianto semaforico tra via Bologna, via Butifreddo e via Navigazione, un incrocio molto pericoloso in cui purtroppo nel corso degli anni si sono verificati gravissimi incidenti. Prenderà nel via a San Martino mercoledì gli interventi per la realizzazione dell'opera il cui obiettivo è quello di migliorare le condizioni di sicurezza per la circolazione nell'area dell'incrocio che allo stato attuale è privo di qualsiasi sistema per la regolazione dei flussi di traffico. L'esecuzione dell'intervento è stata affidata dal Comune a Era Luce. Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria. Torniamo a occuparci adesso di Avis, ma per parlare del prossimo fine settimana che sarà contraddistinto da diversi eventi con la festa sociale. La 55esima edizione avrà al suo clou nella giornata di sabato 29 ottobre al mattino in Municipio con la cerimonia dei gemellaggi con altre due Avis d'Italia. Ma nel pomeriggio al centro Rivanna Garden ci sarà la cerimonia delle premiazioni. Ieri mattina è stato presentato il programma, vediamo dunque i dettagli del servizio. Una festa attesa, quella che si svolgerà nella giornata di sabato. È un momento per la nostra città di grande valore. Festeggiamo addirittura il 55esimo momento di questa festa sociale. È una festa che sarà davvero sociale a tutto tondo, nel senso che si partirà già con una sfilata che attraverserà la città per arrivare poi al deposito della corona, al monumento dei caduti, ad una cerimonia che si svolgerà proprio nelle sale del Consiglio Comunale e poi il pomeriggio la premiazione dei donatori e delle donatrici. Un'occasione davvero per dare valore a quello che è il significato grande della donazione del sangue. La cosa importante, oltre alla festa, con tantissime iniziative che faremo con i laterali, abbiamo questo dato che ci dà soddisfazione, cioè premiamo moltissime donne, molte ragazze che vengono premiate, soprattutto con varie medaglie, quelle che partono dal rame, fino a quella d'argento, e seguono. Questo trend sta seguendo da due anni in qua e questo è un fatto molto positivo. Perciò riscopriamo il valore delle donne che donano, che è molto significativo per l'associazione, che non è più maschilista, questo è già un dato importante. Gli eventi che facciamo sono quelli di giovedì, è vero, 27, che siamo a Ponte Lago Scuro, con un tributo ad Alfio Finetti, il noto contautore scomparso, diretto ferrarese. È doveroso da parte nostra, anche perché Alfio Finetti è stato un grande amico dell'Avis, ha fatto perfino l'inno per l'Avis, perciò è giusto che noi diamo questo tributo. ci sarà sua figlia che canta con il trio, che sono i suoi amici che suonavano insieme a lui. Poi passiamo alla giornata stessa, che voglio dire si comincia al mattino, ma direi che questo qua, questo programma è talmente vasto, che tutti i donatori hanno avuto, terminerà al pomeriggio alla Livana, con le premiazioni. Però il dato importante è che quest'anno, al mattino in Consiglio Comunale, abbiamo due bellissimi eventi, che sono quelli 25 anni di gemellaggio, con due Avis, Avis di Capistrello L'Aquila e Avis di Prata di Pordenone. Lo faremo in Consiglio Comunale, c'è un'attenzione particolare da parte dell'amministrazione verso l'associazione. Al mattino, nella domenica, andremo a visitare il MEIS, il Museo dell'Ebraismo, ed è una cosa che abbiamo fatto a livello nazionale, questo accordo con il MEIS, per portare i donatori e le donatrici a visitare questo splendido e vero museo. E poi termineremo con tutti i festeggiamenti, sempre giovedì 3, a Ponte Lago Scuro, che darebbero l'informazione sul discorso del diabete, la prevenzione del diabete e la donazione del sangue. Perciò è sicuramente una settimana impegnativa, però è una grande soddisfazione per l'Avis. Altra conferenza importante è quella di ieri mattina, che ha siglato il rinnovo dell'accordo tra SPAL e UNIFE, ricordiamo accordo nato nel 2019. Per l'occasione abbiamo sentito la rettrice UNIFE, Laura Ramacciotti, il DG della SPAL, Andrea Gazzoli, ma cominciamo dal presidente stesso della SPAL, Giotta Coppina. Presidente, è una SPAL che si integra sempre più nella città. Quest'oggi siamo qui a festeggiare questo rinnovo dell'accordo con SPAL e con l'Università di Ferrara per noi è un'opportunità molto importante per essere sempre più vicini alla comunità. Questa mattina abbiamo anche avviato la prima tappa del progetto presentato la settimana scorsa che prevede l'inserimento di SPAL nelle scuole elementari e medie del territorio. Ho toccato con mano questa cosa nella prima giornata conoscendo i bambini allo Stadio Mazza è stata veramente un'emozione. Insomma, la città è molto legata alla SPAL noi siamo molto legati alla città e vogliamo che questo legame tra SPAL e comunità sia sempre più forte. Quindi ritengo questa iniziativa presentata oggi cruciale e molto importante per noi. Mi aspetto che nel futuro riusciremo ad implementarla sempre meglio perché, come ho detto, questa città ci trasmette tanto amore e noi vogliamo restituirle il più possibile. Soprattutto quando si parla di giovani ragazzi e l'Università di Ferrara rappresenta un bacino importantissimo quasi un quarto della popolazione cittadina quindi per noi è fondamentale. SPAL 5 e cosenza 0? Sì, è una grande partita ma non solo per 5-0 ma per il modo di giocare per l'attitudine. La differenza grande l'ho vista nel loro modo di giocare. Quando abbiamo fatto il secondo gol volevano il terzo abbiamo fatto il terzo l'anno il quarto quando abbiamo fatto il quarto l'anno il quinto questa fame io penso che sia l'effetto principale dell'arrivo di Daniele De Rossi qui come ho sempre detto nei giorni scorsi ha portato tanto entusiasmo nello spogliatoio tanta voglia di fare e questo si è visto in campo quindi io sono veramente fiducioso perché ho visto che questa squadra ha giocato per il potenziale che ritengo che abbia questa per me è una delle squadre più forti che io abbia mai avuto veramente un grande potenziale e sabato l'ho visto quindi sono veramente veramente felice di questo e mi auguro il meglio per il futuro mi aspetto il meglio per il futuro. La Spalla non è tifosa in più? Sì, assolutamente più convinta che mai ogni collaborazione che noi possiamo portare avanti con le istituzioni locali pubblico-private più che benvenuta dobbiamo ai nostri giovani offrire tutti i servizi che possono essere culturalmente ma anche per il tempo libero più interessanti per attrarli e per farli star bene nella nostra città e nel nostro Ateneo. Possiamo dire che lo sport si può abbinare alla cultura? Assolutamente sì lo sport favorisce anche uno sviluppo culturale di creatività non a caso abbiamo tantissimi studenti iscritti al nostro corso di scienze motorie che affianca accanto all'attività sportiva quella appunto culturale scientifica. Un rapporto che si come si configura? Un rapporto si configura con un atto formale come quello che abbiamo rinnovato oggi al quale però segue e la dimostrazione sono state le diverse attività che abbiamo portato avanti in questi anni tante iniziative che possano essere al servizio dell'istituzione e dei giovani oltre che del cittadino. Direttore cosa comprende questo accordo che avete sottoscritto con Unifei? L'accordo è un protocollo che è stato fatto dal Comune di Ferrara con l'Università di Ferrara con Ergo per quanto riguarda le agevolazioni per gli studenti e spazi inseriti all'interno di questo accordo quindi ci sono delle agevolazioni per gli studenti la cosa più semplice che è già stata utilizzata è per gli ingressi in stadio a tariffa agevolata poi ovviamente era un accordo nato prima del Covid noi avevamo messo a disposizione i nostri spazi anche per eventuali insegnamenti diciamo lezioni e altre iniziative legate per esempio alla nostra partecipazione portando l'esperienza di spalle in tutti i settori in cui c'è l'intersezione con la scuola in questo senso quindi economia ingegneria management perché potrebbe ovviamente essere utile agli studenti vedere nella realtà un'eccellenza diciamo del territorio intanto ieri mattina il Paolo Mazza ha preso via la scuola bianco-azzurra tanto entusiasmo ma lo vediamo in questo servizio è iniziato con i giovanissimi il progetto comune di Ferrara Spal progetto di promozione dei valori e della storia calcistica locale nelle scuole lunedì mattina è andata in scena la giornata inaugurale della scuola bianco-azzurra che ha coinvolto 66 bambini dai 3 ai 5 anni della scuola dell'infanzia Maria Immacolata bambini che hanno vestito i panni dei giocatori dei tifosi guidati dal presidente della squadra Joe Tacopina con l'assessore Dorota Kusiak entrati nel Mazza lunedì mattina i giovanissimi hanno visitato gli spogliatoi hanno provato l'emozione dell'ingresso in campo degli stessi corridoi percorsi dai calciatori hanno inoltre vissuto anche la prospettiva dei tifosi visitando curva e tribune al termine della giornata hanno così poi potuto invadere il campo giocando e scattando foto a fianco del presidente Tacopina e questa era l'ultima notizia per la prima edizione del TV giornale di oggi come sempre vi ricordo il prossimo aggiornamento alle 19.30 ma anche sul nostro sito telestense.it e sui canali social grazie ancora una volta per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Telestense a tutti